Lui impartiva gli ordini dal carcere, lei provvedeva alla riscossione dei soldi derivanti dalla vendita degli stupefacenti. Per farlo, senza destare sospetti, la donna sfruttava il figlio di soli nove anni. I carabinieri della compagnia di Andria hanno arrestato una coppia di andriesi, un uomo ed una donna, conviventi per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le indagini dei militari sono partite a luglio scorso, dopo l'arresto inflagrante di uno dei due indagati che aveva con sé droga, armi e munizioni. In particolare, l'uomo è stato trovato con 18 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi, circa 10 grammi di mannite, utile per tagliare la cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. E poi ancora una pistola revolver a tamburo calibro 44, priva di matricola e segni identificativi, una pistola semiautomatica calibro 8 con canna modificata, probabilmente clandestina, ed oltre 60 munizioni e 4 bossoli esplosi. Sin dalle primissime fasi dell'indagine, i carabinieri hanno intuito che l'uomo si avvaleva della collaborazione della compagna per il recupero dei crediti della sostanza stupefacente ceduta, mediante i colloqui nel carcere di Trani, durante i quali incontrava settimanalmente la convivente, impartiva precise disposizioni sulle modalità esecutive per recuperare i crediti pendenti dai vari acquirenti, anche tramite minacce. Indicava la donna nominativi e modalità e lei, in più di un'occasione, avrebbe usato il figlio di 9 anni, avuto da una precedente relazione, per acquisire il denaro, secondo gli inquirenti, per non destare sospetti. Ora anche la donna è finita in carcere, per lei si sono aperte le porte della casa circondariale di Trani, mentre l'uomo è stato trasferito nella struttura detentiva di Sansevero. Per la coppia di Andriesi le accuse sono di detenzione, spaccio di droga, estorsione e ricettazione, con l'aggravante di aver sfruttato il minorenne. Durante l'attività sono stati anche identificati 8 acquirenti di stupefacenti.